Le zucchine ad alberello, chi è che non ne ha sentito parlare? Vi dico subito che ci vuole una varietà specifica per farle crescere su in questo modo, perché è proprio la pianta che cerca di crescere su come un albero, però anche noi la dobbiamo saper potare, gestire, raccogliere, vediamo quello che c'è da fare per avere questa meravigliosa pianta che cresce su come fosse un albero, andiamo subito al video. E allora eccoci qua, qui siamo di fronte ad un impianto di zucchine ad alberello, innanzitutto vi ho già accennato che è una varietà specifica, è una varietà che se la lasciamo sviluppare senza rompergli troppo le scatole, nel senso di andare a togliere le prime foglie basali, con queste prime foglie che si arquano e si appoggiano al terreno, il gambo, il fusto centrale, quindi cercherà di crescere su in modo verticale. Questa varietà ha la prerogativa di emettere tutte le foglie intorno disposte a raggera, come se fosse così, le dita di una mano con questo palmo, una volta che si sono posizionate il tronco al centro crescerà su come un alberello. Invece stiamo notando qui una varietà che non è una zucchina ad alberello, normalmente ecco che succede, si piega un po' su se stessa, perché? Perché le foglie non crescono disposte a raggera intorno, quindi automaticamente la pianta con il suo peso tenderà appoggiare su un lato, però anche queste piante debbono essere gestite per farle crescere su come stiamo vedendo in questo modo qui. Qui come vedete abbiamo avuto solamente il taglio di due zucchine, qua ce n'è un'altra e così via, cresceranno e le raccoglieremo, però c'è da dire anche un però e qui è la gestione dell'impianto. Quando le foglie iniziano ad invecchiare e quindi cederanno con la loro forza sotto il peso del tronco centrale che crescerà sempre di più, a quel punto occorrerà andarla ad eliminare altrimenti le patologie fungine potrebbero avventarsi sulla pianta, ma dovremo posizionare vicino al tronco un pentutore, una canna va benissimo, e legare un attimo questa pianta. In questo modo potremo fare le successive potature, eliminazione quindi delle foglie esterne malate, ma avere sempre la nostra bella zucchina fresca rigogliosa che cresce ad alberello. Vi saluto così ragazzi, mi raccomando sempre in gamba e un saluto a tutti da Pier Giorgio, buona giornata.